Ultimo e Jacqueline, Ultimo e Jacqueline, una coppia amata dai fan, hanno annunciato la loro prossima genitorialità, suscitando un'ondata di entusiasmo tra i sostenitori. Mentre la madre di Jacqueline, Eder Parisi, Tace, la mamma del cantante romano ha condiviso parole toccanti che hanno commosso il pubblico. Scopriamo insieme il tenore di questo messaggio emozionale, la dedica sincera della mamma di Ultimo. Anna Sanseverino, madre di Niccolò Moriconi noto come Ultimo, ha condiviso un post su Instagram che ha suscitato grande commozione tra i sostenitori del cantautore romano. Nel messaggio, la signora Anna esprime tutto l'entusiasmo per l'arrivo di Jacqueline nella loro vita. Da quando è entrata Jacqueline nella nostra vita tutto si è dipinto di colori, suoni, sorrisi. È la figlia femmina che mi mancava. La futura nonna continua con amore, ma ora sta per arrivare e E già so che non esisterà amore più grande, lo vizierò e amerò come fanno i nonni, gli terrò la mano se la dovesse cercare. La mia famiglia si allarga, il mio cuore anche. Il post ha suscitato una valanga di commenti commossi da parte dei fan, toccati da queste parole cariche di amore e attesa. Indizi sul nome del bebè in arrivo. In seguito all'annuncio della gravidanza di Jacqueline, si sono scatenate le speculazioni sul sesso e sul possibile nome del nascituro, ma un indizio sull'identità del bebè potrebbe provenire dalle parole della mamma di ultimo. Nel post condiviso su Instagram, Anna Sanseverino lascia intendere che, ora sta per arrivare e, suggerendo che il bambino potrebbe avere un nome che inizia con questa lettera, e che potrebbe essere un maschietto. Al momento, no conferme ufficiali da parte dei futuri genitori, che potrebbero riservare una sorpresa ai fan con un palpitante gender reveal. Seguici per altre notizie e aggiornamenti nel mondo dell'intrattenimento. Approfondimenti. Ultimo, ultimo è il nome d'arte di Niccolò Moriconi, un cantautore italiano molto noto nel panorama musicale italiano. Ultimo ha vinto nel 2018 la sezione, nuove proposte, del Festival di Sanremo con la canzone, Il ballo delle incertezze, e ha ottenuto grande successo con brani come, Poesia senza veli, e, i tuoi particolari. Jacqueline. Jacqueline è la compagna di Ultimo, e insieme hanno annunciato la prossima nascita di un figlio. Non sono forniti ulteriori dettagli sulla sua identità nel testo. Eder Parisi. Eder Parisi, è menzionata come madre di Jacqueline nel testo. È una famosa showgirl statunitense, naturalizzata italiana, molto popolare negli anni Ottanta per il programma televisivo, Fantastico. Ha avuto una lunga carriera nell'intrattenimento televisivo e musicale. Anna Sanseverino. Anna Sanseverino, è la madre di Niccolò Moriconi, noto come Ultimo. Nel testo, condivide su Instagram un post emozionante riguardante l'attesa del bambino di suo figlio e Jacqueline. Gender Reveal. Il termine, Gender Reveal, si riferisce a una festa organizzata dai genitori per rivelare il sesso del nascituro ai familiari e agli amici in modo creativo. Solitamente avviene tramite un'attività o un evento sorpresa che svela se il bambino sarà maschio o femmina. Tale tendenza è diventata sempre più popolare negli ultimi anni.